Da arancione a rosso senza passare per la fase rafforzata che prevedeva meno restrizioni soprattutto per quanto riguarda le scuole. Anche Monticelli Dongina nella bassa piacentina dovrà dunque chiudere tutti gli istituti scolastici che già comunque avevano la porta sbarrata per gli studenti delle scuole medie a causa dei contagi di alcuni insegnanti e alunni. Nelle zone rosse è infatti sospesa la didattica in presenza in tutte le scuole dai nidi alle superiori. Resta salva la possibilità di andare in classe solo per gli alunni disabili o che hanno bisogno educativi speciali. L'amministrazione locale è sempre al lavoro per monitorare la situazione. Possiamo quotidianamente affrontare l'emergenza che ormai è strutturale però comunque da sempre dei problemi. Nonostante le restrizioni la macchina comunale continua la sua attività. Siamo nel pieno fervore del bilancio di previsione che andrà a fine mese in cui ci sono comunque da mettere in cantiere tutte le opere per il 2021 e per il 2022 e il 2023 e quindi il lavoro degli uffici è intenso. Anche se le belle giornate invitano ad uscire, non solo per gli acquisti di prima necessità e di medicinali, le strade sono sempre più deserte. Le persone che si incontrano evidenziano le loro difficoltà e la loro stanchezza legata a una situazione in continua evoluzione. Mi sento troppo recluso, lo vivo abbastanza così, un po' male diciamo. Sembra che le cose stiano un po' peggiorando, la situazione è abbastanza complicata. È molto difficile sicuramente, speriamo di riuscirne.